E' importante perché servono a dare delle risposte sull'Europa che vogliamo e su questo paese, su questo mezzogiorno, sono elezioni che diranno molto anche rispetto ai progetti che in questo paese stanno avanzando spesso e volentieri non nell'interesse della maggioranza dei cittadini, uno su tutti, quella brutta cosa che chiamano con un eufemismo autonomia differenziata, è ben chiamata con un altro nome, Spacca Italia. Noi siamo in campo perché vogliamo un'Europa coesa, un'Europa unita, in grado di avere un protagonismo in un mondo complicato e terribile come quello che abbiamo davanti, farlo significa tenere uniti anche i paesi che ne fanno parte, tenere unita l'Italia, tenere unita e coesa questa nazione nell'interesse di tutti i cittadini e di tutte le cittadine, battere la diseguaglianza che cresce enormemente. La candidatura di Lucano parla tanto di Calabria e di solidarietà? La candidatura di Lucano parla di un'idea dell'Europa, di un'idea dell'Europa diversa come la candidatura di Maria Piaffunaro che è qui con me e sono candidature che sono di per sé un manifesto politico e un programma, parlano di un modo di intendere la politica che mette al centro gli interessi dei cittadini e delle cittadine, l'interesse generale prima dell'interesse particolare. Lo dico mentre torna ad esplodere la questione morale in questo paese. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato l'ennesima marchetta elettorale, questa volta per Forza Italia, che hanno fatto quella per la Lega con l'autonomia differenziata, quella per Fratelli d'Italia col Premierato, ora la separazione delle carriere, un altro colpo durissimo all'autonomia e all'indipendenza della magistratura, mentre la questione morale torna ad esplodere. Esplode di nuovo nel modo peggiore, mettendo come sempre davanti l'interesse di qualcuno, di pochi particolari rispetto all'interesse generale. Si svende l'interesse pubblico nel nome del privilegio di pochi e questo non va bene. C'è anche la vicenda dei balneari che si lega un po' anche al discorso europeo in qualche modo. Si lega al discorso europeo ma si lega soprattutto a una questione che ha a che fare con la qualità della democrazia. Ieri abbiamo presentato, annunciato il deposito di una proposta di legge per garantire che almeno il 70% della nostra costa sia libera, sia riconsegnata al diritto dell'italiano e dell'italiano andare al mare. Ci sono aree del paese dove questo problema è per fortuna meno sentito, per esempio qui in Capria, ma ci sono intere aree del paese dove una famiglia normale, non stiamo parlando di persone povere o particolarmente deboli, normale non può andare al mare con i propri figli, non se lo può permettere. Io trovo questa una violenza in un paese come il nostro che è una penisola che ha migliaia di chilometri di costa, anche se la Meloni con un trucco cerca di allungarli addirittura questi chilometri per stare dentro i vincoli europei, ma non è solo questione appunto di rispetto delle norme, è questione di democrazia e di difesa dei beni comuni, anche questa è per noi una vicenda centrale, i beni comuni come garanzia per tutti e tutte di poter accedere a diritti, ad occasioni e a possibilità. L'idea del campo largo dopo le europee è ancora una tradittoria o si rischia che il progetto venga definitivamente accantonato. Al netto degli aggettivi io non mi appassiono alle definizioni largo, giusto, stretto, dritto, rovesciato, mi interessa però che si lavori alla convergenza, alla costruzione di una coalizione capace di offrire un'alternativa ad una pessima destra, perché questo è il punto, la destra su tutti i dossier fondamentali porta indietro il paese, smantella il reddito di cittadinanza, dice no, salario minimo legale, allunga la catena degli appalti e dei subappalti, colpisce l'istruzione, la sanità pubblica è smontata pezzo a pezzo, parliamo di questioni decisive per la vita degli uomini e delle donne in carne ed ossa e quindi mandar via la destra e avere un governo di altro segno è una priorità, per questo noi lavoreremo con grande determinazione a costruire una coalizione in grado di farlo, questo non vuol dire che non abbiamo le nostre idee, anzi noi siamo anche abituati a dire quello che pensiamo senza troppi giri di parole. Sento, le possiamo chiedere un giudizio sull'amministrazione, sul governo chiuto in Calabria? E' un giudizio negativo, è un giudizio negativo di un governo che come quasi in tutte le regioni dove governa e purtroppo sono troppe, mette a dura prova la tenuta di alcuni settori fondamentali, uno di questi è la sanità che resta in una condizione inguardabile, non partiva benissimo, va detto ma non mi pare che su questo ci sia nessun elemento di discontinuità e che nella propria agenda non mette al primo posto le questioni che invece dal nostro punto di vista debbono diventare l'emergenza per la politica, una di queste è il lavoro, la qualità del lavoro, dei suoi diritti, dei salari, io vorrei che tutti i livelli di governo di questo paese, dal più piccolo comune al paese per esempio stabilissero una volta per tutte che si ha diritto ad avere un salario dignitoso, in particolare quando magari siamo in presenza di concessioni, di appalti che hanno a che fare con la pubblica amministrazione, di tutto questo non c'è traccia e io penso che si debba invece cambiare strada.